Un'altra via, un'altra strada, un altro luogo proprio dove... Andare via, andare via, cambiare aria. Perché c'era questo bisogno? Beh, considerando che appunto io non mi ero reso conto, forse neanche in quel momento, neanche facendo quell'intervista con te, quale fosse il suo peso specifico, sapevo solo che era necessaria per me. Terminata quell'intervista io mi sono sentito come un sacco vuoto, ero veramente stanco, stanco, svuotato, ero... Non ero... tutti mi dicevano, bene, adesso sei parte. No, in che senso, non era così scontato. Avevo bisogno prima di ripartire, di ritrovarmi. Era come aver passato tanto tempo a decostruire e decostruirmi per arrivare a poi a trovare il coraggio di denudarsi. Poi c'è il tempo che ci vuole invece per ricostruirsi. E io questo tempo me lo sono andato a cercare, a prendere... Dove sei andato? Andando a vivere in... Ho lasciato Roma e mi sono trasferito in una... casa... bella, in mezzo al nulla, tra i lupi e i cinghiali, in Umbria. Ed è stato... È stato... è stato fantastico per me. È stato fantastico.